Il mio nome è il cuore. Vi posso dire una cosa per Piero, che tra noi è successa una magia. Questo uomo, che ve lo dico ma lui lo sa, somiglia tantissimo a quel mio nonno che nomino spesso, infatti mi ha colpito quello a me. E' il mio nonno. Ce l'avrebbe molti di più adesso mio nonno. Con lui abbiamo trovato subito un punto d'unione. Lui portava un messaggio, quello della totale evoluzione della tecnologia e io portavo il messaggio del popolo vivente. E lo dicevo anche ieri sera, lui fa un esempio meraviglioso che per me è proprio la chicca di Piero. Lui dice uno sgabbello per stare in piedi deve avere tre zampe almeno, tre gambe. Una era Ettore Maionana, una era Rolando Pellizza, l'altra gamba può essere solo il popolo. Perché loro hanno eseguito già il loro compito, la macchina è stata fatta, è stata testata, è reale, esiste, ce ne sono duecento. Quindi non è che abbiamo bisogno di costruirle, ce ne devono solo immediatamente ridare, se no gliele fanno funzionare sotto casa. E adesso è il tempo che il popolo faccia la sua parte. Grazie Piero e grazie a tutti noi. Come in tutte le circostanze, in tutti gli eventi, io non ho un programma, tant'è che ho bisogno di espandere i documenti perché al momento opportuno poi, dalle vostre considerazioni, partono delle radiazioni che mi coinvolgono e mi indirizzano. Spesso non mi concedono neanche di fermarmi, per cui posso diventare anche logorroico. Però, quando mi fermo, approfittate per fare le domande e mi riportate sui temi che in quel momento magari... Adesso però la domanda ve la faccio io. Perché con i nostri soldi, Fabio Fazio, che sembra sia uno dei più pagati dalla RAI, pagati sia con gli abbonamenti, ma anche con le pubblicità che poi paghiamo sui prodotti. E Fabio Fazio, in una sua trasmissione, ha dato ospitalità a questo signore, lo vedete? Bill Gates, per la presentazione di questo libro. Che io mi sono andato a leggere subito per capire qual era la portata. Clima, come evitare un disastro? Le soluzioni di oggi, le sfide di domani. dette da un uomo che non ha avuto pietà di fare sperimentazioni che sono costate molte vite umane. continuano a costare molte vite umane e oggi, con le aziende farmaceutiche, di cui lui è uno dei maggiori azionisti, anche noi in Italia, come milioni nel mondo, stiamo pagando i risultati delle sue sperimentazioni. Allora, possiamo fidarci che sia questo a trovare le soluzioni, visto che lui ha creato il problema? E' chiaro che essendo capace di generare i problemi, vendiamo i virus, li costruiscono in laboratorio, li seminano e poi ti promettono la soluzione. Per cui speculano su anche le altre cose. L'importante per lui è raccogliere tutte le energie disponibili, comprese quelle animiche, quelle che esprimono la vita nostra, e accumularle. Io ho una formazione tecnica. Sono stato formato da una scuola come periodo industriale elettrotecnico. E quando nel 65 ho finito, sono stato prescelto, assieme ad altri 34, a fare un corso per capoturno di centrali nucleari. E poi ho fatto tutto il mio percorso in Enel, sempre immerso nel campo delle energie elettriche. Come generarle per far fronte alle necessità? In quel periodo c'era l'esplosione industriale, quindi bisognava accelerare. E come creare le reti per distribuire, in modo che noi avessimo sempre l'energia che serviva, di qualità che ci serviva. Quindi sono uno che ha lavorato in trincea, nel campo dell'energia, e ho avuto un grandissimo maestro, mentore, l'ingegnere Alessandro Michelangelo Natale, il quale, al battesimo, al primo incontro, ci disse, qui dentro, ed eravamo al terzo piano di un edificio, di una piazzetta che sta dietro la fondana da Trevi a Roma, Piazza Poli, è più piccola questo tendone, però al terzo piano ci disse, qui, scordatevi le carriere perché non contano, qui c'è il compito di riformare la rete elettrica nazionale per dare a tutti l'energia, nella misura che gli aspetta, di cui ha bisogno, perché senza l'energia non esiste una indipendenza nazionale, non esiste una libertà d'impresa e non esiste una vita dignitosa in privato. E da lì che è partita la ricostruzione di tutta la rete produttiva, le connessioni che attraverso la catena delle Alpi ci hanno messo in collegamento con la rete europea ed è partita tutto lo sviluppo della rete compreso quello che è stato la messa in sicurezza degli impianti l'automatizzazione degli impianti perché ci fosse più continuità di servizio o meno discontinuità e da quella volta è partita anche per chi ha i capelli bianchi o quasi chi no può chiedere a quelli indietro la campagna che in tutta l'Italia ha portato alla elettrificazione rurale perché anche le case più sperdute avessero l'energia elettrica a costi sostenibili tant'è che fare un contratto a sei chilometri della città per la fornitura e farlo uno dentro un condominio costavano quasi uguali perché quello non pagava al costo della spesa ma pagava per il servizio che doveva avere era un dovere dargliela perché avere l'energia era un diritto in quel periodo e fino ai giorni nostri l'Italia non ha avuto mai sufficiente produzione di energia massimo siamo arrivati nonostante lo sviluppo delle fondi idroelettriche siamo arrivati al 18% del fabbisogno generale oggi con l'eolico e col fotovoltaico non credo che abbiamo superato il 24-25% quindi noi dipendiamo dall'importazione di energia sotto forma di combustibili di origine sotterranea che proviene dalla violenza che noi facciamo alla terra per sottrargli il carbone l'uranio il petrolio e il metano l'unica cosa che a quel tempo anche con la collaborazione del mio contemporaneo Mattei per essere sicuri di non essere strangolati e ricattati si andava a cercare le fondi più disparate più differenziate i collegamenti con il petrolio del medio-rente oppure il petrolio e il metano della parte nord dell'Africa sono stati fatti allora quindi la nostra indipendenza era garantita dalla multipolarità delle fondi sempre perché ogni cittadino avesse la sua energia l'Enel era una cenerentola quando è stata nazionalizzata io sono entrato un anno e mezzo dopo gli impianti erano cadenti noi ci siamo ritrovati a fare uno sforzo guidati da Michelangelo Natale e altri tre o quattro ingegneri dello suo stesso livello a mettere in campo io avevo 24 25 anni ed eravamo tutti giovanissimi a mettere in campo il massimo delle nostre fantasie per andare in giro a vedere quali erano le tecnologie che possavamo importare sempre ai fini della produzione dell'energia con sicurezza e al più basso costo possibile passano gli anni rimettiamo in piedi tutto il sistema elettrico arriviamo al 1990 l'azienda Enel è diventata la più grande multiutilità del mondo tutti ambiscono metterci le mani sopra alla fine ci riescono perché riescono a portare dentro un dirigente che si chiama Franco Tatò che è specializzato già con laudato in Germania a frantumare le aziende a dividerle in bocconi che possono essere digeriti dal mercato e inizia la privatizzazione oggi la mia tristezza è quella di vedere l'azienda alla quale ho dato i miei migliori anni e tutta l'energia intellettiva organizzativa che il padre eterno il grande ordinatore mi ha dato per rendere grande quell'azienda oggi ne sto parlando come se parlassi male di mia madre è diventata una prostituta tutti quelli che vi telefonano poveracci ricattati per fame che fanno parte dei cozzentere fanno capo a una miriade di aziende non so se sono già sei o settecento in Italia che vi promettono di vendere l'energia a basso costo ma loro non sanno neanche attaccare un interruttore non sanno mettere una presa non sanno nulla dell'energia gli hanno solo imparato delle formule che catturano l'attenzione per rifare dei contratti e sono arrivati a fare il contratto a mia zia 96 anni ex insegnante elementare e la fanno trovate senza corrente perché bastava rispondere alla telefonata e lei girò la mida sì e lei che c'ha questo sì tutti si messi in vila alla fine hai fatto il contratto oggi io e mia moglie stiamo cercando di spegnere dei contratti non bastano le raccomandate né quelli del telefono né quelli dell'enel dall'altra parte perché se non ci vai personalmente se non vai continuano a correre il condatore le bollette perché l'unica cosa che per quelli che vi chiamano e quelli che stanno dietro e gli pagano gli stipendi a quelli del call center interessa solo la cosa farsi una rendita il servizio non esiste più la consulenza che noi facevamo anche per chi veniva a fare i contratti non esiste più io sono testimone perché eravamo stati radunati ad ascoltare un intervento del signor Tatò quando pontificò è finita spendopoli è iniziata l'era di guadagnopoli quando arriva un cliente spiegargli che non gli conviene al cliente passare da 3 a 6 kilowatt perché perde di colpo 350 euro che è il beneficio del contratto minimo è contro l'interesse dell'azienda il patrimonio non era più il cliente e questa è un'aberrazione mentale il patrimonio era soltanto rapinare il cliente guadagnare sul cliente ecco perché qualche volta magari me ne pendo dopo ma sentite parlare con rabbia perché hanno disonorato il lavoro che abbiamo fatto noi perché ho aperto oggi con questo perché ho visto il fiume qua e tanti altri venendo su da San Benedetto che sono asciutti io è da gennaio che sento il sole che scotta e quindi manifesta qualcosa che Ettore Majorana nel 1976 aveva scritto al governo Andreotti aveva fatto arrivare una memoria con calcoli puntuali fatti con il suo metodo la sua matematica in cui anticipava che l'uso sconsiderato delle tecnologie e delle scoperte scientifiche stava portando dei cambiamenti nel clima che sarebbero diventati irreversibili e quindi si usciva da quella che Majorana aveva già definito che nell'universo tutto è simmetria equilibrio e armonia su questa base aveva elaborato quelli che erano gli usi della tecnologia la concentrazione della fornitura di energia attraverso i combustibili fossili che venivano estratti violentando la terra bruciando per produrre calore una quantità eccessiva di ossigeno e producendo degli incombusti che potevano essere le ceneri ma anche dei gas che alterano il clima come un eccesso di produzione di anidride carbonica oggi sulle reti trovate chi parla a favore e chi a sfavore dell'anidride carbonica quelli che devono demolire questo approccio l'anidride carbonica è fondamentale per la vegetazione perché si nutre di anidride è esattamente vero ma quando l'anidride carbonica è di più e quindi il mondo vegetale sia per l'abuso che facciamo nella produzione sia per la riduzione della massa vegetale con la deforestazione e l'inguinamento dei mari porta verso un punto di non ritorno la quantità eccessiva l'universo all'atmosfera non riesce a metterla nel ciclo e quindi gli effetti si cumulano avendo fatto questi calcoli Majorana scrive e lo riconferma con una lettera del 2000 a Erasmo Recami in quella memoria che Rolando Pelizza con l'unico collaboratore e l'unico allievo di Ettore Majorana dopo la sua scomparsa dalla scena affermava l'uso sbagliato delle tecnologie sta portando dei cambiamenti che diventeranno irreversibili a partire dal 2000 dall'anno 2000 saranno misurabili i cambiamenti ma se nulla si fa dal 2010 saranno visibili gli effetti attraverso manifestazioni climatiche devastanti se continua senza fare scelte adeguate continueranno a ridursi lo strato dell'ozono che scherma la Terra dal 95% delle radiazioni solari nocive ai processi biologici sulla Terra quindi alla vita assottigliandosi riduce la capacità di filtro e a livello dei poli si formeranno dei fori attraverso i quali i raggi arriveranno direttamente sulla massa terrestre e questo porterà due cambiamenti molto grossi il primo è che a livello molto alto si modificheranno le produzioni la modalità di formazione dei nuclei intorno ai quali si condensa l'acqua a formare le gocce che tornano verso Terra il miracolo della pioggia e con questi cambiamenti dei nuclei in alcune parti per ogni goccia cadranno al suolo 250 centimetri cubi la quantità di un bicchiere io mi sono dato la pena di andarlo a vedere un centimetro cubo sono da 16 a 18 gocce a seconda della temperatura dell'acqua il che vuol dire che cadranno mille gocce a posto di una se ne è visto qualche esempio se cominciano a vedere quindi laddove si manifesterà questo fenomeno ci sarà la cancellazione per via dell'acqua di qualunque cosa possa essere trascinato via siamo alle manifestazioni del diluvio universale ma non è il sole vendo perché la maggiore quantità di energia solare che non filtrata dall'ozono arriverà sulla faccia della Terra si trasforma in calore quindi la quantità di calore che verrà prodotta dalle radiazioni sarà tale e tanta per cui anche se spegnete allora le vostre centrali continuerà a salire e questa maggiore quantità di calore è energia che alimenterà i cicloni e i venti arriveranno fino a 400 e 600 chilometri l'ora dove si manifesteranno un aumento del numero dei cicloni a un aumento della potenza devastante dei cicloni l'ultimo ciclone del 2016 che nel centro america è stato osservato per 36 ore ha raggiunto la velocità massima di 295 chilometri l'ora e dove è passato non c'è più nulla il che vuol dire che quando arriveranno questi altri con queste velocità i danni saranno molto più estesi molto più profondi e la conseguenza immediatamente successiva è che chi rimane in una zona che non è più abitabile e gli viene risparmiata la vita per poter sopravvivere ancora si sposterà creando situazioni di migrazioni bibliche per necessità incontrollabile questi probabilmente lo sanno e si preparano a sfruttare quei cataclismi come hanno sempre fatto e come è stato evidente dal terremoto di Amatrice e dell'Aquila dove io sono conterraneo come stanno facendo adesso con le guerre e col terremoto per loro le disgrazie sono occasioni del business e siccome questo Dio accumulo per loro è insoppremibile stanno secondo me preparandosi a quegli eventi per sfruttarli e le tecnologie di cui dispongono dai brevetti di Tesla in avanti li utilizzano per programmare i loro interventi o addirittura per spostare gli eventi scaricando le tensioni che ci sono nel sottosuolo per effetto dei movimenti delle placche e scatenare lo spuntellamento laddove a loro gli fa comodo un mio convincimento per quello che leggo in giro a questo c'è un rimedio perché mi rendo conto come fa paura a me questo però oggi noi abbiamo in mano delle possibilità che fino a ora ci hanno occultato e qui mi impresto direttamente da uno scritto di Ettore Majorana un concetto che se riusciamo a farle proprio ci aiuta a capire quello che sta avvenendo e probabilmente a riposizionarci ognuno di noi Majorana esprime questo concetto un brillante o una perla per quanto possano essere grandi se è tenuto nascosto non esiste non esiste per nessuno perché ci tengono nascoste le tecnologie queste conoscenze perché non esistono e non esistono come facciamo a desiderarle come facciamo ad allinearci per pretendere l'utilizzo perché possiamo pretenderlo quando vi leggerò perché Ettore Majorana e Rolando Pelizza hanno dato la loro vita perché queste tecnologie si manifestassero in modo evidente la macchina di Majorana è l'unico vero strumento che può essere utilizzato già da domani per intervenire sul cambiamento climatico e riportare l'equilibrio nell'atmosfera e sul pianeta la macchina di Majorana è la soluzione non quello le aberrazioni che ha scritto quest'uomo su questo libro non i brevetti che ha acquisito e ai quali probabilmente vorrà anche costringersi ad usarli perché avendo i brevetti adesso devono vendere che cos'è la macchina di Majorana per chi non lo sa non ne ha sentito parlare è una cassettina che vedete qui un cubo la scatola esterna è di alluminio e anche due scatole dentro un cubo di alluminio di 55 centimetri di lato per avere la misura il forno da ingasso che sta in ogni cucina attuale funziona alimentata da una batteria da cui assorbe 40 watt quando una lampadina di incandescenza che avevamo di quelle sui comodini o per i corridoi ma è in grado sviluppata fino alla quarta fase di svolgere quattro cose io ve le dico molto velocemente poi passeremo per chi vuole ad approfondirle la prima fase premetto una cosa Majorana e Rolando Pelizza si sono incontrati casualmente si fa per dire il primo maggio 1958 in un convento dove l'uno si era ritirato per studiare Rolando Pelizza con la sua squadra era andato perché portava delle calzature per i conventuali e prendeva gli ordini per quelli che dovevano rifornire Rolando Pelizza era famoso conosciuto all'interno perché era quello che velocemente faceva i calcoli e dava i risultati Ettore Majorana cercava un collaboratore aveva quindi acquisito secondo me anche delle informazioni sulla moralità e la correttezza prima per cui si avvicina a questo giovane 20 anni aveva Rolando Pelizza Majorana ne aveva nel 58 ne aveva 52 dice Rolando aveva un abito da frate ma un po' diverso dagli altri Rolando io ho sto problemino con un foglietto scritto avrei urgenza di avere il risultato ma puoi dare una mano nel giro di una settimana dieci giorni al massimo Rolando dice vabbè c'è proprio adesso lo metti in tasca raggiunge gli altri suoi collaboratori ha ancora un po' di tempo tira fuori il fogliettino lo guarda e in pochissimo tempo trova la soluzione l'annota e torna indietro così non deve fare il viaggio per portare la soluzione Ettore Majorana di questo incontro e di come ha dato la risposta ne parla in una lettera successiva rimane impressionato a quel punto e gli fa la proposta io conosco una matematica e una fisica che non sono conosciute completamente nuova ti va di impararla perché serve poi a realizzare una cosa che è molto importante e Rolando si trova probabilmente coinvolto dalla fede dalla forza spirituale di questo frate e immediatamente dice di fare il pendolare per andare a prendere le lezioni per imparare questa tecnologia per sei anni Ettore Majorana insegna e Rolando Pelizza va a distruirsi il 26 febbraio 1964 dopo sei anni Ettore Majorana dopo averne discusso e precisato alcune cose gli consegna una lettera perché sia chiaro sia quello che gli sta dando ma sia chiaro anche come lo metti in guarda da eventuali pericoli e gli dice come ben sai dopo avergli riconosciuto che sa sufficienza per realizzare la macchina come ben sai questa macchina ti consentirà di essere costruita e di svilupparla per le prime quattro fasi questo particolare è molto importante per le prime quattro fasi quindi ce ne saranno delle altre e le prime quattro fasi sono annichilazione della materia sul riscaldamento della materia rallentamento dello spin della materia sul riscaldamento del materiale trasformazione della materia traslazione della materia l'annichilazione vuol dire che in modo selettivo questa macchina può raggiungere il materiale a cui è stato mirato seleziona il materiale da colpire e lo annichilisce il materiale sparisce senza esplodere senza implodere semplicemente come se se vaporizzasse e finisce cioè ridiventa esclusivamente energia come Ettore Magliorana sapeva bene che tutto è energia diversamente condensata ma è solo energia però in quella lettera gli dice anche non in questa fase deve essere fatta conoscere perché sarebbe pericoloso ma quando hai raggiunto la seconda fase in modo selettivo noi rallentiamo lo spin della materia la materia si riscalda fino al 40% della temperatura di fusione o di ebollizione se è liquido tradotto in numeri se andiamo a sorriscaldare l'acqua si porta a 60 gradi a 40 gradi se riscaldiamo l'acciaio che fondi a 1630 gradi abbiamo temperature di 650 gradi se noi riscaldiamo un fascio tubiero di una centrale nucleare che oggi la scaldiamo col gas con l'uranio col petrolio o con il carbone noi la possiamo scaldare con questa macchina e produrre il vapore anche a 650 gradi in modo continuo senza consumare la materia zero senza produrre nessuno in combusti perché non c'è combustione senza fumi qui c'è molti di voi ci passeranno davanti la spesia la centrale della spesia che io ho conosciuto quando ancora era in fase di sviluppo per l'automazione nel 67 68 1968 l'area che rimarrebbe impegnata dalla centrale è meno di un terzo di quello che oggi si vede ma non ci sarebbero più le vie le passerelle per andare a prendere prima il carbone adesso il petrolio o il gas e non ci sarebbe più l'occupazione della parte di mare dove ci devono stare l'attracco delle navi o la zona di rispetto per gli attacchi del metano e non avrebbe più nessun impatto negativo sulla città perché non essendoci combustione non produce nulla di negativo per la città e non produce neanche nessun movimento d'aria per l'assorbimento dell'ossigeno per poter bruciare diventerebbe compatibile con tutti i centri abitati ogni centrale mettendo una o due di queste macchine per ogni gruppo generatore alla spesia se ne stanno quattro basterebbero otto macchine avete idea di quanto può costare questa macchina? l'ultima costruita l'ultima costruita è finita luglio del 2021 è costata 92 mila euro e darebbe energia infinita quindi costo pressoché zero ma non solo costo zero ma dal momento che non esistono più i bisogni del combustibile né pozzi né miniere né metano né uranio vengono meno i motivi per cui si fanno le guerre non ci sarebbe più motivo di fare le guerre di conquista e di predominio quindi questa è la macchina che può risolvere ma la cosa più importante e per la quale Rolando Pelizza ha lavorato fino all'ultimo e si è impegnato fino all'ultimo giorno di vita è che questa macchina può essere utilizzata alla terza fase la trasmutazione della materia può essere utilizzata per trasmutare l'anidride carbonica in ozono ma questo va fatto in modo pubblico perché per far questo correttamente c'è bisogno di tutti quelli che sono gli osservatori gli osservatori astronomici e astrofisici per controllare quello che avviene nell'atmosfera dove si concentrano le sacche di anidride carbonica da trasmutare e come si vanno a riposizionare le produzioni di ozono man mano che vengono prodotte quindi va fatto con una collaborazione senza predominio di ciascuno perché non c'è da speculare sopra non c'è da arricchirsi nella lettera con cui Ettore Majorana dà a Rolando Pelizza il mandato di costruire la macchina c'è il giuramento che collega questa macchina all'anima e alla vita di questi due nostri campioni tieni sempre presente il giuramento che abbiamo fatto per nessun motivo anche a costo della vita sarà ceduta come strumento bellico ma dovrà essere usata esclusivamente al fine di migliorare la nostra esistenza come ben sai la macchina ti permetterà di realizzare le prime quattro fasi e ve le ho elencate ma nella lettera che Ettore Majorana scrive il 7 dicembre del 2001 Italia 7 dicembre 2001 caro Rolando è passato è passato un anno dalla mia ultima del 2012 2000 che tu hai insistentemente ignorato era la lettera nella quale gli diceva di smettere perché non era sopportabile tutte le angherie che i servizi segreti a quali lo costringevano non era umanamente sopportabile credo che questa sarà una delle mie delle ultime lettere che riceverai da me per questo desidero che sia un po' anche il mio testamento spirituale da subito voglio riconoscere i tuoi meriti nello sviluppo delle mie teorie essendo tu riuscito a capire e a realizzare la macchina che ora è finalmente funzionante dopo ben 228 tentativi falliti correva l'anno 1972 e poi hai continuato per tanti anni ed hai superato molteplici inconvenienti la cui natura ci è ben nota comunque per tutto quello che hai affrontato grazie Rolando mio unico vero discebole e collaboratore qui voglio in particolare riconoscere il tuo comportamento da gentiluomo nel mantenere la parola data sempre coerente e rispettoso della mia volontà di tacere il mio nome da allora sono passati più di 40 anni e desidero che tu sia il mio portavoce da ora se lo riterrai opportuno sei libero di usare il mio nome di divulgare i nostri rapporti gli scritti e le fotografie e poi precisa se lo farai ti prego di rivelare i veri motivi che mi hanno spinto nel 1938 ad allontanarmi da tutti per dedicarmi allo studio nella speranza di arrivare in tempo e poter dimostrare al mondo scientifico al mondo scientifico che esistevano alternative importanti e senza pericoli purtroppo tu ben sai che non sono arrivato in tempo pur avendo alternative migliori che a tuttora non sono servite a nulla riservati l'ultimo segreto dove come mi hai conosciuto il luogo e i fratelli che da sempre mi hanno segretamente ospitato ti ringrazio nuovamente per aver sacrificato la tua vita per assecondarmi ma ti prego non andare oltre tuo Ettore Rolando non si è affermato lo stesso ha continuato però qui voglio leggere perché perché questo è il mandato dato a Rolando che adesso visto che si è disingarnato a gennaio del 2022 non lo può più fare e avendo dato a me questo mandato di parlarne lo svolgo io anche se solo casualmente sono venuto in possesso di una fotocopia di un documento che lui aveva consegnato a un ingegnere suo collaboratore di Milano un mio amico quando l'ho avuto in mano mi ha telefonato io non l'avevo visto perché non esiste più in giro questo libretto me ne ha dato una fotocopia leggendola e rileggendola questo scritto che è del 1962 due anni prima che desse poi il mandato di costruire la macchina qui c'è scritto come funziona la macchina e perché e allora io mi riaggancio di qual è il motivo proprio per evitare le mistificazioni che spesso si fanno il cosmo è un tutt'uno armonioso ogni astro ogni pianeta qualsiasi struttura sono contenuti in un unico insieme come i pezzi di un orologio sincronizzati ognuno con gli altri in un solo corpo battendo attimo per attimo il tempo universale tutto quello che è compreso nel cosmo è parte integrante di un'unica cosa e questa mattina in modo diverso lo avete sentito più volte tutto è singrono nell'agire universale e pertanto oggi che la scienza è riuscita a svelare molti fenomeni cosmici simbone ci vorrà ancora del tempo la realizzazione di azioni e di pensiero di tutti gli esseri umani come fossero un solo popolo senza sopraffazioni lotte spargimenti di sangue e distruzioni notate questo piccolo particolare simbone la realizzazione di azioni e di pensiero di tutti gli esseri umani poi vedremo poi vedremo perché qual è il valore agli uomini si impone non più l'autodistruzione per qualsiasi effimero pensiero per un dominio ingannevoli consapevole della caducità della vita terrena la vita è un ciclo per tutti certi che con la morte si stende il manto del silenzio e della dimenticanza e come qualsiasi oggetto posseduto non segue il possessore anche loro dovranno lasciare tutte le ricchezze possedute quelli che rubavano sistematicamente le macchine a Rolando o che provavano ad ostacolarne la costruzione non si nasce per volontà propria nessuno possiede tale facoltà nasciamo perché nati e nascituri sono sempre parte dell'armonia universale la nostra vita la vita di tutti gli esseri umani sulla terra e nel mare è una esigenza imprescindibile in un certo senso della divina natura oggi che il pensiero dell'uomo sta dischiudendo nuovi orizzonti tutti gli esseri devono agire come singoli come famiglia e come popolo in una concezione universalistica operando uniti come in uno stato universale che sia di tutti nel rispetto della funzione qualificativa e armonica come avviene nel cosmo in obbedienza alle leggi dell'eterno divenire ogni entità soggettiva e oggettiva attraverso in forza della differenziazione ai fini della comune conoscenza è utile agli altri suoi simili e viceversa ognuno è utile qui fissa un altro parametro che forse è stato ripetuto già detta società dovrà avere come denominatore comune il diritto al necessario per tutti in rapporto all'equivalenza dei valori dei soggetti e degli oggetti di lavoro ai fini della conoscenza comune o comune e universale parla di diritti al necessario per tutti nessuno escluso quando nel pensiero umano si farà strada la convinzione che tutto ciò che esiste fa parte della natura universale e quindi anche umana e che il tutto nel suo evolversi è dovuto all'armonia delle differenziazioni e quindi dell'utilità attraverso il raggiungimento della comune conoscenza allora tanti misteri saranno disvelati e l'umana ragione sulla scorta delle testimonianze scritte dei loro predecessori penetrerà il mistero ma solo allora del fiat ovvero sia del momento creativo prima accennato alla forza del pensiero l'unità del pensiero da quando fin qui descritto consegue che l'essenziale è agire in ottemperanza a ciò che è voluto dalla legge sovrana dell'armonia universale nel rispetto reciproco delle aspettative dei simboli concentrandosi con umiltà e invocazione senza superbia e ipocresia mali contratti alla vita serena adesso quando ho letto questo mi sono venute le vertigini per alcuni giorni non sono riuscito a capirlo quindi potrebbe capitare anche a qualcuno di voi la creazione ha tre potentissimi mezzi che le permettono in modo assoluto la formazione cosmica e il cangiante attimo per attimo di una sempre nuova conoscenza proiettata dalla stessa onniscienza la velocità psichica quella cosmica e quella fisica quest'ultima è quella che permette la formazione dall'inorganico all'organico fisico magnetico fino all'essere umano la velocità fisica è la velocità che massima è quella della luce del sole 300.000 chilometri al secondo la velocità cosmica di cui parla in questo libretto Majorana è la velocità che collega il mondo fisico all'ultra dimensione e quindi è la parte cosmica che è quella velocità di mille chilometri al secondo l'altra è la velocità spirituale quella psichica la velocità che domina nell'intero cosmo che è infinito che per noi non è immaginabile noi non abbiamo gli strumenti per vedere quanto è grande però è una velocità che noi conosciamo perché è la velocità spirituale che abbiamo dentro è quella psichica quella a cui fa riferimento Gesù quando parla che noi siamo uguali al creatore perché abbiamo la capacità di pensare e prima ha detto che quello che conta è il pensiero perché è la più grande potenza che ognuno di noi ha imparando ad utilizzare questo pensiero noi ci affranchiamo da tutti e qui Rolando Pelizza più volte negli incontri anche quando eravamo in gruppo e l'ultima volta era a fine agosto del 2021 meno di un mese dopo che gli era stata rubata l'ultima macchina eravamo in montagna e lui ha detto Piero la macchina è uno strumento che rende tangibile visibile all'umanità che certe cose possono avvenire ma una volta che l'umanità ha appreso che quelle cose sono possibili il pensiero umano che elabora con coerenza e sente con il cuore in coerenza può essere fatto dall'uomo senza l'ausilio della macchina qui c'è un freno particolare che per arrivare a quel livello c'è un'evoluzione che non può essere raggiunto da chi pensa di utilizzare quegli strumenti per se stesso ma Iorana ha una concessione lì nel passaggio che vi ho detto prima parla degli ingranaggi di un orologio che si muovono in modo sincrono in altra parte parla di frammenti e noi umani siamo dei frammenti nei confronti del cosmo nella misura in cui noi questi frammenti riusciamo a sentirci parte del tutto in armonia con tutto il resto dell'universo e quindi siamo l'universo intero perché come ogni cellula del mio corpo è il mio corpo dell'intero in quel momento se io sento ognuno di voi parte di me quello che ho e che sto fare sta a disposizione di quello che ne ha bisogno io non guardo più a voi come mercato per arricchire io guardo come opportunità per godere della soddisfazione di essere utile io non dipendo più dalla remunerazione ma solo da me stesso perché mi arricchisco ogni volta di più con l'esperienza e quindi potrei essere ancora più utile in questo modo ritorniamo a qualcosa che abbiamo sotto gli occhi ma non ci fanno vedere perché a chiunque intorno a noi andiamo a fare la domanda oggi che cosa desidera più soldi per pagare il mutuo la bolletta l'energia e tu dà più soldi la ricchezza sui soldi mi rubo il concetto da un amico che non c'è più che a San Marito in una serie di incontri mi ha insegnato ci mettono davanti delle domande che sono tendenziose perché ci fanno concentrare sulle differenze che ci distanziano facendoci delle domande diverse quelle vere che servono per la vita chi vuole la buona salute chi vuole l'acqua di buona qualità chi vuole l'aria respirabile e senza inquinanti chi vuole vivere in un ambiente di pace possiamo andare avanti il primo che fa una domanda per creare una separazione è la primo che tenda l'attendato la divisione e la possibilità di conflitto ecco perché usano dividere le città in quartieri le festività una contro l'altra le squadre di calcio e poi i confini tra stati abbiamo l'insegnamento nella mitologia di Roma no? Remolo e Roma prendono un aradro e fanno un cerchio questo è mio e poi guardate dove è arrivato in Romania hanno conquistato tutto ma se quello era il confine loro perché quando hai creato un confine vedi l'altro come una preda o come un nemico e se lo vedi come un nemico vai ad armarti e quando ti sei armato poi la devi usare le arme no? non la vediamo sotto gli occhi in questo momento in questi giorni stanno dissanguandoci economicamente tutto il popolo italiano compreso me quindi parlo per me ma vedo anche quelli che stanno intorno a me attraverso i ringari pazzeschi dei combustibili di quell'energia che potremmo avere Granis ci stanno torturando con delle immagini facendoci vedere i ragazzi che muoviono quelli che piangono e poi di fianco ti mettono un numero a cui dovresti mandare dei soldi altrimenti ti senti in colpa non le hai aiutati poi però contemporaneamente il mio stato con i soldi che abbiamo dato noi che prendono dalle nostre tasse e che ci estorgono con tutti i mezzi vanno a dare un aiuto all'Ucraina comperandogli le armi per cui il popolo ucraino dovrebbe sparare ai russi e farsi sparare poi arriva un terremoto in Siria Turchia e Siria i bambini che piangono stanno al freddo fateci un'offerta oppure l'ultima pubblicità che ho visto per puro caso un'altra sera i bambini dell'Africa bastano nove euro al mese per salvargli la pelle ma come abbiamo uno stato che manda via milioni miliardi per sparare non ce li ha per aiutare quelli ma che siamo degli imbecilli la macchina la macchina di Majorana insieme a tutte le tecnologie che hanno occultato da quelle di Tesla dell'inizio del novecento a oggi renderebbe il popolo affrangato dalle necessità e potremmo pensare a riequilibrare tutto il pianeta in modo da renderlo vivibile come un paradiso che cosa manca che cosa serve io lo estraggo da quel libretto rileggendole e leggendole parla dell'energia che da quando si forma il primo esponente elementare che dall'ultraterreno dall'iperspazio entra attraverso velocità dell'iperspazio entrano e si fermano perché arrivano particelle in contratto si forma il primo gradiente di temperatura e poi fisica quella particella fisica che si forma c'è anche un'altra particella non fisica che rimane fuori e man mano che queste particelle si aggregano in modo diverso ma per affinità a formare le varie parti dell'atomo che siano i bosoni i neutrini e poi i positroni i protoni e neutroni e gli elettroni che girano attorno man mano che si aggregano sviluppano e sommano le loro energie che sono immense e poi entrano nel mondo biologico con le trasformazioni chimiche e biochimiche per dare origine alla vita attraverso quell'elica che porta dentro il codice che fa ognuno di noi diverso da un altro quel miracolo della vita che io porto sempre in tasca dei semi questo è un seme di un leccio un tipo particolare di quercia qui dentro c'è tutto il codice per riprodurre un leccio che può rimanere in vita anche per 500 o 600 anni svilupparsi come quando ho preso questo primo seme un albero che per abbracciarlo bisognava essere in tre che si autocura che impara ad alimentarsi e fa fronte a ogni disastro che c'ha che si ripara sta tutto qui basta solo che io lo vada a mettere in un terreno idoneo che gli dà l'acqua a sufficienza e dal sole gli arrivi quell'energia e forse anche quella pulsazione di vita che innesca la riproduzione Bill Gates che vuole governare il mondo ma ce l'ha la capacità di riprodurre un seme o un filo d'erba no e allora si deve ritirare e vergognarsi la natura va lasciata come fa la natura è la nostra guida però parole di Majorana equilibrio e armonia è l'armonia quindi una frequenza che pervade l'universo ed è la frequenza quella alla quale noi rispondiamo quando ci sentiamo attratti e andiamo a formare quei nuclei che diventano non solo combatti ma si rafforzano come è capitato quando io ho incontrato due anni e mezzo fa mia moglie nel momento in cui in questa sala stanno due testimoni di quell'incontro noi ci siamo abbracciati ma era per salutarci a un convegno di Barbara in quel momento è scattato qualcosa che ci ha fatto saldare e le nostre vite si sono arricchite in un modo incredibile perché abbiamo trovato le due particelle che si sono saldate e ognuno dà forza calore ed energia all'altro e la nostra energia si accresce di ora in ora di giorno in giorno è una legge universale che ho provato con la mia esperienza questo perché avviene perché noi essendo parte dell'universo e come dice Ettore Majorana tutto nell'universo la forma perfetta è quella sferica anche noi emettiamo la nostra energia in forma sferica come fosse una mela in forma magnetica perché il nostro cuore che è la più grande pila la più grande fonte di energia espande intorno a sé quello che lo alimenta all'interno e quando c'è coerenza tra il mio pensiero e il mio sentire e sono rivolto verso l'universo e nella prima parte dell'universo ci stanno gli umani come me in quel momento il mio cuore alimenta voi e il vostro cuore alimenta il mio e man mano che noi ci allineiamo a sentire che la macchina di Majorana è stata concepita per il bene dell'umanità per noi ed è nostra man mano che cresce il numero di anime che si sintonizzano su questa frequenza si forma un'onda da qualunque parte ci troviamo ma allineati su quell'onda dall'altra parte perdono ogni giorno energia e forza rispetto a noi e si ribatterà e si apriranno le porte del paradiso perché qui è il paradiso intorno a noi ne abbiamo la possibilità ognuno di noi ha questa facoltà questa possibilità sentendo la macchina sua perché Rolando Pelizza ed Ettore Majorana sono i due che hanno avuto la responsabilità uno ha avuto l'idea Majorana non dice mai ho concepito la macchina mi è stata data un'idea mi è venuta l'idea la creazione non è di questa dimensione a Rolando Pelizza gli è dato di aver capito il suo pensiero e di averlo tradotto in macchina e Rolando Pelizza in un colloquio ha usato questa espressione io e il mio maestro abbiamo completato il nostro compito effettivamente se leggerete il libro per chi lo andrà a leggere 2006 Majorana era vivo dove dentro ci sono tutte le vicende che hanno accompagnato dal concepimento alla realizzazione questa macchina con tutte le angherie i soprusi le vergognose falsità messe nelle mani dei giudici che hanno costretto Rolando Pelizza per 11 anni di stare all'estero allontanandolo dalla famiglia e da sue aziende che hanno fatto fallire tutta quell'energia che può essere rappresentata perché se ne parla i servizi segreti italiani agli ordini del generale Sandovito che riportava al governo Andreotti i servizi segreti e l'ambasciata americana oggi con Wikileaks sono stati disegretati alcuni documenti per cui c'è un documento di Gerald Ford De Kissinger e un altro dell'ambassatore americano a Roma che tengono d'occhio la macchina ad alta energia ma le testimonianze di Rolando Pelizza quando tenuto prigioniero in Spagna gli hanno fatto vedere le macchine che gli hanno rubato e altre che hanno costruito che nei loro mezzi mi diceva Rolando più belle e più grandi delle mie e gli hanno fatto vedere come alcuni tecnici erano più bravi di lui e più veloci a montarle uno dei generali gli ha detto perché non smetti ci costi più tu di quanto spenderemo per creare una guerra civile in Russia lo hanno tenuto sempre sotto controllo dai satelliti e da altri mezzi di intercettazione perché volevano rubare la conoscenza che consentiva solo a Rolando Pelizza di governare la macchina perché la macchina ha un punto interno al cuore per chi viene qua qui c'è una bobina è rossa ma è di argento di filo smaltato e dentro è un cilindro di alluminio è in scala uno a uno quella è quella grandezza naturale quel complesso lì è contenuto in un cubo di 17 cm e la macchina si completa con il tubo sopra che proietta all'esterno le particelle di antimateria nella quantità e nella qualità voluta e con la frequenza determinata un solo colpo colpi ripetuti o colpi continui poi 200 emissioni al secondo può fare può raggiungere obiettivi fino a 1500 km e questa potenza purtroppo è stata vista dall'esercito americano dai servizi segreti americani come arma per sopraffare il mondo e visto quello che stanno facendo in questo momento è chiaro che questa macchina non è da mettere nelle loro mani dobbiamo formare abbiamo l'opportunità ognuno di noi ha l'opportunità di partecipare a formare quell'onda spirituale per l'utilizzo della macchina ai fini per cui è stata concepita per il bene dell'umanità e riportare la disponibilità dell'energia senza limiti per quello che servirà senza più violentare la terra perché nella terza fase la macchina è capace di trasmutare la materia quindi non servono più miniere neanche per i diamanti né per il ferro né per nessun'altra materia la macchina è capace di darci tutto quello che ci serve ma una cosa la dobbiamo far noi non può farlo la macchina agire all'interno nostro scoprire le nostre qualità scoprire come noi possiamo intervenire con il nostro pensiero al nostro interno non solo rasserenandoci ma potenziandoci disarmarci perché l'obiettivo non è sopraffare ma convivere collaborare cooperare e ritrovandoci secondo il nostro imprinting quello che dalla nascita ci hanno dato noi ci ritroveremo a vivere in serenità in salute e in armonia questo ci aspetta questa è la nostra parte è questo che formerà il terzo piede per cui avremo un tavolo stabile su cui iniziare a mettere queste macchine a noi adesso io vi ringrazio se qualcuno adesso vuole approfondire qualcosa sì sì perché così almeno la domanda si sente allora ho capito più o meno che questa macchina ha un grandissimo potenziale individuo esatto quindi è fondamentalmente una nostra proiezione cioè la proiettata majorana ma fondamentalmente è un potenziale che abbiamo tutti quanti dentro di noi lui ha avuto la capacità di riuscire a mettere questa questa cosa che aveva dentro di plasmarla nella materia di rappresentarla e con le sue capacità perché prima di fare il fisico aveva studiato ingegneria e quindi aveva una mente strutturata per presentare i suoi pensieri in modo che gli altri avessero poco da discutere quindi majorana l'ha trasformata in un progetto realizzabile però non avendo lui le capacità di pratica ha cercato il collaboratore e questo è il primo grande atto di umiltà di quello che era un genio assoluto che si ferma per poter collaborare con uno che non sapeva niente era una tela bianca perché Rolando non aveva studiato la fisica ecco perché lui si propone di insegnargli ok quello che volevo dire è che forse alcuni progetti validissimi come ha fatto lei anche il nome di Tesla è che forse finora non hanno avuto sviluppo per un principio che non è sbagliato in senso assoluto ma è come viene letto tra virgolette diciamo dall'universo ovvero se io mi conversando con me stessa e quindi con l'universo dico questa macchina può mettere a posto delle cose può migliorare la vita in quel momento io sto esprimendo una mancanza per cui l'universo me la farà vivere perché l'universo ci esaudisce in tutto quindi idee ottime ma va migliorato l'intento non so se mi sono spiegata sì perché la realtà ci dà la realtà ci dà sempre ragione noi siamo non ce ne rendiamo conto ma la realtà che noi viviamo ci dà sempre ragione se noi pensiamo che il vicino di casa è uno lo sarà perché abbiamo ragione perché ce la creiamo noi quindi è questo che volevo dire che se noi lavoriamo da dentro e smettiamo di esprimere mancanza noi siamo abbondanza e cambiamo la visione trasmuttiamo perché l'occhio ci hanno insegnato che cattura ma l'occhio proietta quindi se noi impariamo a leggere quello che proiettiamo smettiamo di manifestare mancanza e quindi di metterci nella situazione di vivere mancanza allora poi tutto è possibile non so se mi sono spiegata perché essere abbondanza essere abbondanza fa sì che ti sblocca tutta una serie di cose energetiche per cui arriva tutto e magari quella macchina che di partenza era stata creata con un certo tipo di intento evolve a un'evoluzione perché noi abbiamo un'evoluzione e non so come dire si eleva ancora di più lo scopo è ancora più elevato dove va uno vanno tutti non è aspetta non è aspetta c'è una realtà condivisa e c'è una realtà individuale su quello siamo d'accordo su quello siamo d'accordo ma la macchina di Mario di Majorana è dentro di noi lui ha avuto la capacità di e poi chiedendo aiuto ma sono connesse sono connesse certo assolutamente sì assolutamente sì quello che sto dicendo io è che non arriverà finché noi sentiamo la mancanza di questa macchina sto dicendo un'altra cosa perché l'universo ti dà ragione visto che chiedi a me formula in modo coerente con quello che è la disponibilità della macchina la domanda alla quale vorresti la risposta no no era un confronto era un confronto io ho una mia idea di come si comunica con l'universo a qualcuno risuona a qualcuno no non importa però portando la mia visione stimolo un punto di vista tutto lì era solo per quello io ho grandissimo rispetto per tutto anche su Tesla quello che è riuscito a passare l'ho apprezzato noi abbiamo un corpo fisico che ci è stato assemblato entro cui agisce il mio io spirituale sì che è eterno sì il corpo no chi l'ha detto poi perché il corpo perché è una convinzione no il corpo se lo impostiamo a questa maniera non arriviamo a nessun capo tu hai espresso una cosa adesso lascia a me il mio punto di vista sì 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 tutto quello che si manifesta in questa dimensione fisica che è l'ambito terreno ha un suo ciclo di permanenza nel visibile che è il suo ciclo di vita per le montagne sono miliardi di anni per tutto le formazioni cosmiche per i corpi viventi vanno da alcuni alberi che arrivano a 500 600 mille anni ai corpi dei viventi della specie animale che arriva a qualche a qualche centinaio di anni o al massimo a giorni perché molti di noi piccoli non sono arrivati a un anno qualcuno è nato pure morto sì sì quindi nel mondo fisico c'è un ciclo c'è un ciclo vitale per cui le particelle che si sono assemblate fino a diventare atomi poi molecole e molecole capaci di generarsi per cui c'è all'interno una spirale che è il DNA che li rimette in sintonia a formare quel soggetto dal momento che si forma c'è una caratteristica precisa che come è arrivato a manifestarsi scomparirà perché cambia forma adesso senza voler sofisticare il corpo fisico scompare quantomeno lo mettiamo dentro una cassa e dentro l'oculo scompare alla vista poi si decompone ma anche quelle molecole quelle c'è rientrano nel ciclo che che Grazie a tutti.